buonasera amici e amiche di nuova news 24 le belle storie d'amore hanno un inizio e purtroppo a volte hanno una fine luca salatino si è lasciato da soraia e per ora questa è la notizia sembra essere ufficiale tra me sora è finita vi prego di rispettare questo momento le sue parole sui post dei social questo quello che ovviamente ha detto luca salatino si attende anche la risposta della sua ex a questo punto ragazza ragazza con cui ha condiviso tanto è uscito da una scelta di uomini e donne molto importante per lui che gli aveva cambiato la vita ricordiamo che al momento quindi soraia non ha commentato ma le sue ultime parole in tv sono state proprio rivolte a salatino io ti amerò in maniera pura perché sei la persona più straordinaria che abbia mai incontrato ti amo sei la mia vita questo ovviamente qualche tempo fa prima che tutto ciò accadesse era da qualche giorno che si conciferava questa crisi crisi profonda luca salatino che è uscito addirittura dalla casa del grande fratello proprio per riabbracciare la sua ragazza che gli mancava veramente tanto sono arrivate segnalazioni tantissime segnalazioni da tantissimi siti web da parte di diversi utenti come città insomma vicine a dove abita sorai e che potrebbero contenere la reale motivazione della presunta rottura tra i due ex protagonisti oltre alla segnalazione del video che immortala solaia mentre stai in auto con un ragazzo ci sarebbe anche chi svela un particolare sul presunto uomo misterioso un imprenditore di como lo sanno tutti a como a svelare altri dettagli molti degli abitanti di como io sono come o abito a tre metri da lei praticamente i nostri balconi confinano in questa casa nuova non è mai entrata con luca confermo che qui sanno tutti che sta con quest'altro ragazzo amici di nuova news 24 vogliamo sapere cosa ne pensate di questa coppia che purtroppo oggi si dice scoppiata se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e e seduteci sempre sul nova news 24 grazie a tutti